Oggi il guerriero del Covid-19 ha un'arma in più, Immuni, l'app del Ministero della Salute, che anonimamente ti notifica se sei stato in contatto con una persona risultata positiva al virus. Così puoi prendere subito precauzioni per difendere i tuoi cari. Se ti arriva la notifica di Immuni, scegli di chiamare il tuo medico. Nelle Marche hai diritto a un Covid-test in sole 24 ore. Scarica l'app e continua a comportarti responsabilmente. Per te e per tutti. Grazie.